Chiusi le indagini da parte della Procura di Trani per il crack della Casa Divina Providenza, l'ex ospedale psichiatrico con serie a Biceglie, Foggio e Potenza. Sono 28 le notifiche di avviso di conclusione delle indagini per la CDP, gravata da oltre mezzo milione di euro di debiti, oltre che in amministrazione straordinaria dal 2013. Nell'occhio del ciclone ci resta anche il senatore NCD Antonio Azzolini, per il quale il GIP del Tribunale di Trani, Rossella Volpe, aveva chiesto il 10 giugno scorso l'arresto, richiesta rigettata a luglio da Palazzo Madama e poi a novembre annullata dalla Corte di Cassazione. La posizione del senatore rimane in tutta la sua gravità. Come rimangono pressoché confermate le contestazioni a carico degli indagati finiti in carcere o ai domiciliari nell'ambito dell'operazione Ora Pronobis, tutti ex responsabili e consulenti esterni dell'ente ecclesiastico. In particolare l'associazione a delinquere, finalizzata alla bancarotta fraudolenta Dazzolini, agli ex direttori generali Dario Rizzi, Antonio Albano, Giuseppe De Bari e Giuseppe D'Alessandro, alla madre superiore a Marcella Cesa e a Suor Assunta Puzzello, oltre che ai consulenti Antonio Battiante, Rocchio di Terlizzi e Augusto Toscani. A completare il quadro anche Adriana Vasilievic, Jugoslava, dipendente dell'ente, ed Angelo Belsito, considerato amministratore di fatto. Ad Azzolini i magistrati contestano anche una presunta concussione con l'imposizione ai vertici dell'ente di Diterlizzi e Belsito. Rispetto alle iniziali 25 posizioni, i PM hanno stralciato la posizione degli indagati romani. Nell'avviso di conclusione delle indagini figurano però anche nuovi indagati, che avrebbero concorso alla bancarotta fraudolenta sia pure in misura diversa. In particolare Agatino Lino Mancusi, ex consigliere, assessore e vicepresidente della giunta regionale della Basilicata, che avrebbe premuto per far assumere alcune persone. E ancora il direttore amministrativo della CDP, Marcello Padoanelli, e l'amministratore delegato dell'Ambrosia Technologies, Luciano Di Vincenzo, società fornitrice di pasti e servizi di pulizia.